La CGL di Crotone si prepara al congresso territoriale a quello nazionale. Si è tenuta infatti una conferenza stampa tenuta dal segretario Raffaele Falbo, dal segretario della funzione pubblica Franco Grillo e dalla segretaria della SLC Tiziana Ventura nella quale sono state esplicate tutte le vertenze territoriali da portare al tavolo di confronto nei prossimi mesi. Bonifica, sanità e ovviamente lavoro sono i temi principali che saranno trattati. Tutta una serie di problematiche che vanno obbligatoriamente sostenute ma soprattutto vanno, come dicevo, spinte in avanti e portate a soluzione. Non è facile. L'appello che noi vorremmo fare in questa fase congressuale è che le istituzioni, i nostri rappresentanti a tutti i livelli, si sedano intorno al tavolo e mettono da parte quelle che sono beghe o visioni, magari anche diverse, che poi comunque devono trovare un punto di incontro perché deve prevalere obbligatoriamente il bene dei nostri disoccupati, il bene della nostra terra, il bene dei nostri figli. Da Crotone per la Cineus 24